Stipulato una convenzione tra il comune di Calopezzati ed il consorzio CoriPet, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente che opera nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti. Nei giorni scorsi, nella comunità ionica, è stato posizionato un ecocompattatore al fine di reclutare e riciclare le bottiglie di plastica che spesso vengono lasciate dagli indisciplinati per strada o finiscono in mare, introdotte delle premielità per i cittadini virtuosi attraverso un sistema che accumula punti per poi beneficiare i disconti in esercizi commerciali. Questo contribuisce sicuramente a migliorare la qualità del nostro ambiente perché tra l'altro è stato dimostrato che è molto più conveniente riciclare una bottiglia in pet in quanto le emissioni di CO2 prodotte si abbattono al 50%. La sfida di Coripet è raccogliere e riciclare le bottiglie in pet immesse sul mercato dalle aziende produttrici consorziate. In sostanza più si ricicla, meno plastica si produce. Soddisfatto il sindaco di Caropezzati, Edoardo Giudice Andrea, che mira ad una radicata campagna di sensibilizzazione. Sensibilizzazione che Coripet ha intelligentemente fatto passare attraverso una politica di premialità. Chi conferisce una bottiglia al compattatore utilizzando l'app sullo smartphone ha un premio di un punto. Con 100 punti ci sono i primi premi che sono sconti presso attività, imprese.